...che si possono applicare se devono... Trovando un'identità di intenti nel loro modo di sentire e svolgere le loro iniziative, l'Università del Mare e il Festival di Fano Jazz, che in questi giorni si svolge la Rocca Malatestiana, hanno organizzato degli eventi in comune. Il programma è stato presentato dall'assessore all'ambiente Cora Fattori, con il presidente dell'Università del Mare, Carlo Cerrano, e il direttore artistico del Festival, Adriano Pedini. Si tratta di tre giorni in cui la musica, con tutto l'apparato green del Festival, si associano a temi come la difesa del mare, il recupero della biodiversità marina e le problematiche della pesca strascico. Tra gli incontri non mancheranno anche gli avvistamenti, sempre più frequenti, anche presso le nostre coste, degli squali, che stanno terrorizzando i bagnanti. Si parlerà anche delle migrazioni marine, di crisi climatiche e della collaborazione tra le associazioni ambientaliste, WWF, Greenpeace, Marevivo, Legambiente, Federazione Pronatura, Sea Shepherd, Mad React e il Marine Center. L'Università del Mare nasce per creare un canale di collegamento tra la società e il Fano Marine Center, un centro di ricerca estremamente importante presente a Fano, dove le ricerche che vengono condotte all'interno è molto importante, che vengono in qualche modo divulgate e fatte conoscere. Una volta all'anno organizza questo festival che si chiama Ocean Action, dove chiede a diverse associazioni, sia locali che nazionali, internazionali, di venire a Fano a raccontare quello che stanno facendo e mettere quindi il pubblico nelle condizioni di decidere, in qualche modo, se è interessato di contribuire attivamente alla soluzione di certi problemi. Ecco, fino ad oggi, che risultati avete ottenuto? Noi come associazione ci occupiamo soprattutto di divulgazione, però cerchiamo di farlo in modo attivo. Per esempio, abbiamo diverse esperienze fatte durante il periodo invernale con le scuole, abbiamo dei progetti cosiddetti di Citizen Science, dove cerchiamo di coinvolgere gli studenti, dalle elementari alle medie alle scuole superiori, per andare in spiaggia a fare delle osservazioni, fare anche delle raccolte di rifiuti occasionalmente, ma soprattutto per creare quell'interazione tra uomo e natura, che molto spesso viene a mancare. Salvaguardia dell'ambiente è un concetto che ripercuote i suoi effetti positivi, non solo sulla natura, ma anche su diverse attività dell'uomo. Queste sono iniziative che ci fanno capire la complessità dei temi ambientali che hanno risvolti sociali, economici e culturali. Non a caso vengono ospitati in uno degli eventi culturali più importanti della nostra città, che è il Fanogez. Parleremo dei temi ambientali, come si sviluppano anche dal punto di vista economico. Si parlava da tempo di aprire un acquario. Che fine ha fatto? So che stanno lavorando. L'ufficio ambiente ha trovato finalmente la quadratura del cerchio per poter permettere di dare parere positivo all'apertura dell'acquario. C'erano delle questioni sulle acque dei reflue, però le abbiamo risolte tutte e quindi si sta proseguendo. Il Marine Center è stato, a mio parere, il più grande successo dell'amministrazione seri. Forse è poco conosciuto e considerato dalla città, ma la città lo deve capire e rivalutare perché è un centro di ricerca a livello nazionale che porterà a Fano grossi risultati se sapremo puntarci.